E quasi quasi non si crede a quanta vita ci può stare fra le scaffali e libreria e la musica che vola Buongiorno Aldo Serena. Buongiorno. Benvenuti. Grazie. Come va? Abbastanza bene. Allora leggo, leggerò una pagella e poi ti chiederò di raccontarci chi ti ha dato questo voto. È un ragazzo strano che all'inizio sembra trasparente e poi si complica. Ha la faccia da chierichetto e picchia come un fabbro. Peraltro accettando di farsi picchiare. È il più migratore, il più curioso, il più ricco d'avventura. È il dottor Jekyll e mister Hyde. Ho un debole per lui e quando gli vedo fare certe cose in campo andrei a dirgliene quattro. Poi penso che può cavarsela da solo e che magari mi tirerebbe una gomitata sulla già precaria dentatura. Allora sto fermo e tranquillo pensando al suo non comune impegno in campo. Voto 8. Credo sia Gianni Mura forse. È Gianni Mura, è Gianni Mura, 30 maggio 1989, l'anno in cui tu sei stato capocannoniere con 20 gol in Serie A. Sì, 22, ma devo dire che Gianni me le ha date bastonate, me le ha date anche all'inizio. La nostra prima avventura è capitata alle Unipiedi di Los Angeles nel 1984 in una conferenza stampa dopo una partita appunto abbastanza violenta come è stata Italia-Egitto dell'epoca. Ti riconosci nel giudizio che Mura ha dato in questo articolo? Era all'indomani di un Inter-Napoli? Sì, penso proprio abbia visto giusto come spesso faceva. Credo sì di avere una patina semplice ma mi rendo conto di essere una persona anche un po' complessa, sfaccettata. Senti, tu nasci a Montebelluna, hai cominciato presto a giocare a pallone. Quando hai realizzato, c'è stato un momento preciso nel quale hai realizzato che il calcio per te avrebbe potuto diventare una strada maestra e non rimanere solamente un gioco? Guarda, molto tardi perché io da piccolo, mio papà, insieme a mio zio, aveva una fabbrichetta, mio papà faceva il direttore di questa fabbrichetta di scarponi da montagna, da roccia, e io ho sempre lavorato il pomeriggio in fabbrica, da 7 anni fino ai 18, quando ho stato a casa. La mattina andavo a scuola, il pomeriggio andavo a lavorare e quindi il calcio per me era diventato a 11 anni, oltre che un passatempo, una passione, una voglia di sfogare anche delle restrizioni temporali che avevo perché non avevo molto tempo per divertirmi e quindi il calcio l'ho preso di petto, l'ho preso come una cosa molto seria perché sentivo che mi faceva bene, far fatica, stancarmi, però non pensavo mai di poter diventare un professionista di calcio. È capitato che a 18 anni mi vedesse l'Inter e così comprò il mio cartellino dal Montebelluna e a quel punto ho detto proviamo un'avventura che potrebbe essere molto interessante e lo è stata. Poi una volta smesso il calcio giocato tu hai trovato altre strade e sei stato anche un precursore da questo punto di vista per continuare a stare attorno al calcio e a raccontarlo, per esempio attraverso la tua attività di cronista. Che cosa ti ha lasciato e che soddisfazioni ti ha dato questa seconda carriera? Fare le telecroniche è stata una nuova esperienza che mi ha dato un punto di vista diverso nel vedere il calcio. Commerciale perché io lavoravo per una tv commerciale come Mediaset e quindi dovevamo mantenere il prodotto in un certo modo anche criticando i calciatori e avendo anche uno spirito abbastanza deciso nel commentare però dovevamo sempre tenere presente che era una tv commerciale. Quindi è una nuova visione del calcio e devo dire che frequentare gli stadi mi è sempre piaciuto e il fatto di andare spesso all'estero e anche a viaggiare è sempre stata una mia grande passione. Il fatto di andare all'estero a commentare le partite era per me il massimo quindi mi prendevo anche qualche giorno per visitare le città e me la sono spassata. Senti a proposito di estero e a proposito naturalmente di nazionale che all'estero si lega in qualche modo fisiologicamente tu apri il tuo libro con un ricordo particolare, una corsa verso la rete con lo stadio che comincia a girare attorno a te, la vista che ti si annebbia e tu che a un certo punto ti senti scisso in due praticamente, il corpo da una parte e la mente dall'altra. Cosa successe esattamente quel giorno? Nella semifinale dei mondiali del 1990 in Italia, a Napoli, finiti i tempi supplementari, io mi sono rilassato a terra pensando di non andare a calciare i cinque riguri che noi dovevamo tentare di mettere in porta per superare l'Argentina. A quel punto poi i vicini venne a chiedermelo e accettai, alzandomi in piedi capì che qualcosa era successo in me. Ci ho pensato molto dopo perché è una cosa che mi è capitata solo in quel momento. poi ho realizzato che probabilmente era un attacco di panico. Io non sono riuscito a gestire le tensioni di quel momento, il mio corpo si era bloccato. Già il fatto di portare avanti un piede e non cadere a terra per me era un impegno enorme. Ho provato a fare un po' di training autogeno per poter tranquillizzarmi ma non ci sono riuscito. Il fatto di non ricordare proprio nulla del dopo, io non ho memoria di quella notte, di quella sera, del giorno dopo, si è cancellata dalla mia mente, mi ha dato appunto da pensare che fosse un attacco di panico. Senti, da protagonista e da osservatore naturalmente dello sport che hai praticato e che continui a frequentare, che cosa potresti dire sul calcio odierno rispetto a quello degli anni in cui tu giocavi? Che cosa è cambiato, che cosa è cambiato in meglio e che cosa è cambiato in peggio? Una delle motivazioni che mi ha fatto scrivere questo libro è appunto la coscienza di aver visto il mondo del calcio cambiare repentinamente, d'altra parte come tutta la società. Io ho due ragazzi, due figli che hanno giocato a calcio, hanno frequentato i campi di periferia del Veneto e ho visto i genitori modificare il proprio atteggiamento, ho visto come, che pretese hanno dei figli, che prospettive hanno, il fatto di far ricadere sui ragazzi delle loro manchevolezze del passato oppure dei loro desideri e creando una pressione e una forte problematicità. Ho visto i ragazzi molto bravi smettere repentinamente di colpo perché non riuscivano più a sopportare questa pressione e allora ho voluto raccontare la storia, una storia diversa, una storia dove io e la mia famiglia non ho avuto pressioni, mi hanno lasciato libero di fare, di sbagliare, di decidere e quindi credo che questa sia la strada giusta per ragazzi che hanno quell'età. A proposito di amicizia, quali sono gli incontri più belli che hai fatto nel corso delle tue permanenze all'interno dei club, in Serie A, diciamo, e quali rapporti ti restano della tua frequentazione col mondo del calcio? Dei rapporti ne parlo molto nel libro di vario genere, alcuni sono quelli che non si sono completati, che mi hanno, che mi sono rimasti più dentro al cuore e dico uno su tutti, con Platini, con Platini io avevo una grande ammirazione per lui, ho giocato con lui due anni e giocandoci insieme poi oltremodo questa mia ammirazione si è concretizzata vedendo cosa sapeva fare in campo, vedere con quale leggerezza lui facesse delle giocate uniche, il fatto che lui fosse anche una persona originale, ma originale sul serio, non perché si faceva i tatuaggi, non li aveva, ma perché proprio aveva una mente, una mentalità, è del 55 e quindi ha vissuto il post del 68 con quello spirito di quegli anni, ecco io ho avuto la coda un po' più lunga perché sono del 60, ma Michelle era veramente una persona all'epoca unica e quindi il fatto che io fossi timido e non molto estroverso non mi ha permesso magari di trovare una sintonia totale, ma la mia ammirazione resta sì in maniera completa per lui. E invece a livello pedagogico per così dire qual è l'insegnamento più importante che tu abbia mai ricevuto da un allenatore e fra i tanti allenatori con i quali hai avuto il privilegio di giocare, chi è quello che ti è rimasto più impresso? Ce ne sono vari di allenatori che mi hanno dato tanto, ma devo dire che l'umanità di Trapattoni è stata quella che mi ha fatto volere tanto bene a questo mio caro amico, perché abbiamo avuto esperienze con la Juventus, con l'Inter, momenti difficili, momenti molto belli, nei quali lui però non ha mai perso il controllo e aveva la priorità sulla relazione, sul rapporto personale prima di quello calcistico. Grazie mille Aldo Serena per essere stato con noi. Per noi è no. Grazie mille Aldo Serena Stars